In questo video parliamo di 200 e 400 metri, vorrei proporre un elemento di resistenza lattacida da inserire alla fine del GPP e all'inizio dell'SPP Parliamo del 10x150 metri con 3 minuti di recupero Questo elemento è abbastanza divertente e abbastanza anche veloce La cosa importante è tenere appunto come sempre le prove sempre alla stessa velocità La intensità da tenere è l'80% quindi se hai un personale di 18 secondi sui 150 metri dovrai correre queste prove intorno ai 21 secondi e 5, 21 secondi e 6 Come riscaldamento ti consiglio di fare un bel warm up, fare della corda, della priometria, degli ostacoli che vanno sicuramente benissimo E prima di riscaldare le prove ti consiglio di fare qualche accelerazione sui 10, 20, 30 metri, 3, 4 accelerazioni prima di fare i 150 metri Perfetto, la fine di questo elemento è anche fare della forza quindi se hai a disposizione la salapesi una buona capatina in salapesi non può che farti bene Io con questo ho finito, mi raccomando fammi sapere magari se fai questo elemento come va, come ti senti Con questo ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e mi raccomando sempre a caldo Ciao